Si è parlato di violenza di genere ieri sera al Teatro Schipa di Gallipoli. Lo si è fatto alla presenza di un artista che all'universo femminile ha dedicato oltre 50 anni di canzoni, melodie e parole, Amedeo Minghi. Al dibattito erano presenti anche la consigliera alle pari opportunità della provincia, Filomena Dantini, la neopresidente della commissione alle pari opportunità del comune di Gallipoli, Filomena Micale, la giudice Maria Cristina Rizzo, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Lecce, la dottoressa Titti Tornesello, primario del reparto Oncoematologia Pediatrica presso l'ospedale Vitofazzi di Lecce, l'avvocato e scrittore Paolo Maci, autore del libro Mi chiamo Eva, i ragazzi della compagnia teatrale Minuetto, nell'anteprima dello spettacolo teatrale Mi chiamo Eva e sono colei che suscita la vita, con il maestro Max Però. La parola chiave, o meglio l'hashtag della serata, io disobbedisco alla violenza. La violenza sulle donne uccise, strangolate, accoltellate, bruciate vive da mariti, fidanzati, compagni o semplici conoscenti. I dati sono allarmanti, si parla di una violenza ogni tre giorni, una situazione che non accenna ad arrestarsi, come dimostrato dalle tante notizie di cronaca riportate quotidianamente dalla stampa. Si parla anche di femminicidio, un nome macchiato di sangue, di donne che ogni giorno perdono la speranza di una vita migliore e smettono di vivere. Minghi ha scelto il Salento per parlare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne. Un vero e proprio bollettino di guerra su cui mi sono soffermata, sia da assessore provinciale alle pari opportunità, sia da consigliera di pari opportunità della provincia di Lecce. Dichiara la consigliera Ilomena Dantini, la violenza sulle donne si scatena quasi sempre all'interno delle mura domestiche. L'autore è nel 48% dei casi il marito, nel 12% è il convivente, nel 23% l'ex. E se poi parliamo di femminicidio, le donne uccise per mano di un uomo violento sono in aumento. Dagli 80 episodi nel 2013 si passa ad esempio ai 152 del 2014, 117 nel 2015 e 116 nel 2016. Dati che seppur vedono un leggero calo non devono lasciarci soddisfatti, anzi, in rapporto ai servizi attivati e alle misure di prevenzione adottate sono sicuramente ancora allarmanti. Amedeo Minghi incontra le donne, l'amore, il femminicidio. E questo è il titolo scelto per l'incontro dibattito con l'artista che come pochi altri dimostra una sensibilità particolare verso l'universo femminile. Ed è in programma il prossimo 8 marzo, giorno della festa delle donne, proprio a Gallipoli un concerto per elogiare ancora una volta il genere femminile. Tra le frasi più note del canto autore è la seguente Alle donne il compito di costruire la pace. La bussola e il cuore, perché? Perché questo disco che celebra in qualche modo i miei 50 anni di carriera è come un lungo e intenso viaggio attorno alle tante cose che ho fatto e che spero farò, perché ci sono delle cose anche dentro l'album che guardano al futuro, quindi ci sono dei progetti dentro. Quindi la bussola per orientarsi in questo mondo meraviglioso ho fatto di tante cose che mi accompagnano.